altro caffè Lars ah sì grazie carina la tazza anche per bianca sì ecco a te grazie carina tu gas no ok ma sì scusa tu non vai a lavorare oggi gas non mi sento bene ma che cos'hai bianca potrebbe aiutarti è un'infermiera diplomata no non può non può perché non è un'infermiera a Lars perché non è una persona lei è solo un pezzo di plastica ma è incredibile hai sentito bianca dice che dio l'ha creata per aiutare il prossimo non farai tardi al lavoro sono molto in ritardo quindi devo andare ok ma vi controllerò a distanza come vuoi il telefono dell'ufficio ce l'hai vero carina certo volevo dirti che oggi sei infinitamente bella spero che tu ti rimetta presto gas anche io e grazie per la colazione di niente ok me ne vado ciao ciao beh dovevo provarci no che c'è che c'è che c'è che c'è ciao 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 ciao